Approvare subito il piano di assetto naturalistico ed eliminare del tutto nell'ambito dell'iter avviato con le due delibere regionali approvate a giugno qualsiasi riferimento al piano di riperimetrazione voluto dalla maggioranza di centrodestra che riduce l'area della riserva del Borsacchio da 1100 a 24 ettari e quanto chiede all'unanimità seppur con qualche distinguo al netto di alcune defezioni la commissione urbanistica del comune di Roseto degli Abruzzi riunitasi mattinata la proposta sarà portata in discussione nel prossimo consiglio comunale attraverso una risoluzione urgente le delibere della giunta regionale quelle del giugno del 2024 hanno dimostrato sostanzialmente che ciò che si era detto dal consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi era corretto cioè che l'iter per la modifica eventuale di una legge sulla riserva non è quella che è stata adottata dal governo regionale che nell'ambito di una legge regionale quella sul bilancio di previsione ha inserito all'interno di quella legge la riperimetrazione. La riperimetrazione ha un iter previsto dalle leggi che disciplinano l'istituzione e le modifiche delle riserve e lo stesso presidente Marsiglio ha dovuto nel mese di marzo scrivere al consiglio dei ministri al ministero dell'ambiente perché erano state delle osservate quella legge. Adesso questa procedura può essere e deve essere modificata e alla regione stesso ha attivato la procedura per modificarla con queste delibere di giunta regionale noi diciamo come commissione non di mettere di sospendere che sia in via provvisoria quella delimitazione ma di abolire la legge 4 in questa fase adottare approvare definitivamente dagli organi competenti della regione il piano di assetto naturalistico e poi aprire un tavolo di concertazione. Soddisfatto il sindaco Mario Nunez che sottolinea come l'orientamento espresso dalla commissione ricalchi in larga parte il punto di vista dell'amministrazione rosetana. Ringrazio il presidente della commissione Ennio Pavone e tutti i commissari che si sono espressi hanno trovato una convergenza a una grande maggioranza tra l'altro confermando quella che era una posizione coerente del consiglio che si era espresso già nei mesi scorsi sulla necessità assoluta di approvare così come è stato controdedotto nelle osservazioni il piano di assetto naturalistico che ha visto una gestazione pluriennale che ha visto in qualche modo un grande lavoro degli uffici e della mia della nostra maggioranza e che con quell'atto scelerato come l'abbiamo definito di un taglio che a quel punto l'abbiamo definito solo noi scelerato ma poi lo è stato confermato dai ministri dai ministeri dal consiglio dei ministri e indirettamente anche dal presidente Marsiglio